Io immagino che lei abbia letto oppure le abbiano riferito dei giudizi che di recente ha espresso il professor Giuliano Amato nei confronti della destra che lei rappresenta e del suo governo in particolare. Oltre a dire che l'ideologia della destra che lei rappresenta è l'ideologia dell'ostilità e del rancore, ha anche detto che è percepita come un nemico la Corte Costituzionale, il cui compito è garantire i diritti di carcerati e migranti omosessuali. Gli ha fatto l'esempio della Polonia perché in Polonia il governo impedì alla Corte Costituzionale la pubblicazione di una sentenza. Questo secondo lui potrebbe accadere anche in Italia e sarebbe l'inizio della fine della democrazia. Io credo che una risposta sia probabilmente necessaria, sicuramente interessante dal punto di vista giornalistico e le chiedo anche se secondo lei questi giudizi sono compatibili con il proseguimento di una leale e effettiva collaborazione tra il governo e il professor Amato perché l'autorevolezza del professor Amato di fatto l'ha confermata allo stesso governo assegnandogli l'incarico della cosiddetta commissione algoritmi. La ringrazio. Grazie a lei. Dunque sul tema della commissione credo si sappia che non è stata una mia iniziativa e ho tendenzialmente detto quello che pensavo ma al di là di questo non ho nulla da dire diciamo nello specifico al professor Amato, sono rimasta francamente basita particolarmente dalle dichiarazioni che riguardano il tema della Corte Costituzionale. Allora come funziona? Articolo 135 della Costituzione dice la Corte Costituzionale è composta da 15 membri di cui un terzo di nomina del Presidente della Repubblica, un terzo di nomina del Parlamento, un terzo di nomina delle magistrature ordinarie e amministrativa. Perfetto. Perché si pone il problema? Si pone il problema perché entro la fine di quest'anno, 2024, il Parlamento che oggi ha una maggioranza di centrodestra deve nominare quattro giudici della Corte Costituzionale e quindi c'è un rischio di deriva autoritaria. Ora, lei capisce che questa idea della democrazia per la quale quando vince la sinistra chiaramente deve poter avere tutte le prerogative che riguardano la maggioranza e quando vince la destra no, diciamo oltre a essere un po' bizzarra, temo che necessiti di alcune modifiche di carattere costituzionale, tipo potremmo scrivere l'articolo 135, i giudici della Corte Costituzionale sono nominati dal PD, sentito il parere di alcuni interrettuali e di Giuliano Amato. Non lo so se il PD vuole presentare questa proposta di riforma, lo può fare, io non la voto, ma in ogni caso non credo che si possa dire che se una maggioranza di centrodestra esercita le stesse prerogative che la sinistra ha esercitato ma proprio senza guardare in faccia a nessuno, questo possa essere considerato una deriva autoritaria. Penso che sia piuttosto una deriva autoritaria considerare che chi vince le elezioni se non è di sinistra non abbia gli stessi diritti degli altri. Nella mia idea di democrazia questo non esiste e il mondo nel quale la sinistra ha più diritti degli altri per quello che mi riguarda è finito. Tutti hanno gli stessi diritti, le stesse prerogative, sono scritte nei nostri regolamenti, nella nostra Costituzione. Gli italiani decidono chi debba esercitare quelle prerogative con le elezioni e questa è la normale democrazia. La democrazia che abbiamo conosciuto per cui la sinistra fa quello che vuole e chi non è di sinistra invece non ha diritti non è il mio mondo e farò di tutto per combatterlo. Grazie Augusto.